Domenica 5 gennaio alle ore 18 al Palamalfatti, in una gara unica, Real Rieti e Lazio si contendono il passaggio del turno alla Final Four di Winter Cup Peugeot. Nel caso in cui, al termine dei tempi regolamentari, nessuna delle due squadre risultasse vincitrice, si procederà con i tempi supplementari ed eventuali calci di rigore. A girarsi Rogerio sulla pressione di E e Raul, sempre Rogerio in appossesso, vada Davide, Davide la conclusione, pallone sotto la traversa, riapre la partita e Real Rieti, la riapre con la conclusione di Davide, 2-1 al Palamalfatti, il camp di Davide riaperta la partita al Palamalfatti. Grazie a tutti.